Allora, con pandemia vogliamo esorcizzare, vogliamo far divertire, preoccupare o cosa? Vogliamo soprattutto far riflettere, far riflettere divertendoci, ridendo e anche crudelmente. Crudelmente? Eh beh, crudelmente perché bisogna ripensare a quello che ci è accaduto, non possiamo bypassarlo, non possiamo rimuoverlo. Però questo senza tristezza, senza depressione e senza ansia. Ecco, a proposito di ansia, mi fermo sulle donne che poi manifestano sempre l'ansia e l'hanno manifestata durante questo periodo. Il tuo ruolo? Il mio ruolo è, diciamo noi siamo una coppia di, questa coppia va avanti negli anni, questo spettacolo va dagli anni venti fino ai giorni nostri, quindi la cosa bella è che facciamo tanti personaggi in questo spettacolo. Quindi c'è parecchia ansia per il debutto, diciamo, però insomma speriamo che andrà molto bene. La Bruschetta ci facciamo raccontare velocemente la storia, questa corsa dagli anni venti in poi, le cose che cambiano, voi che siete un po' trasformisti, ma c'è una trama, un filo, non dico logico, che insomma sembrerebbe quasi offendere il tutto quanto, c'è qualcosa che lega tutto quanto? C'è un filo registico perché già l'adattamento del regista stesso cambia completamente il testo ioneschiano, portandolo su due personaggi, appunto un uomo e una donna, e poi c'è un filo metateatrale per cui sono in realtà due attori che raccontano vari personaggi che si trovano dentro una situazione di questo tipo. Chi è che subisce dei due, di più la pandemia? No, nessuno. Sono vittime e carnefici. Vittime e carnefici. Che poi è una cosa che quasi dispiace alla fine di lasciarla, no? C'è questa, c'è la sindrome. No, a me non dispiace da niente, sono contentissimo. Spero che ci saluti presto. Beh certo, voglio dire, siamo tamponati e vaccinati, lo volevo dire in onore di chi osserverà che stiamo senza le mascherine, però in tutto questo c'è una cosa bellissima, quella di salire e di tornare sulle scene dopo questo digiuno imbrassante e lungo. La cosa bella è questa che inauguriamo la riapertura appunto con uno spettacolo sulla pandemia ed è un'emozione grande, l'emozione di riaprire i teatri dopo un anno e mezzo e io dico anche un po' leggermente in polemica, nel senso che non ci dovevano chiudere perché il teatro è il luogo più sicuro. Lo hanno detto anche quelli delle piscine stamattina, stessa cosa e quindi insomma ci sono altri... Non è bello, scherzo, la piscina mi dà un'idea che potrebbe essere un po' più pericolosa. Come sono stati da ultimo questi mesi per voi, però è ultima da lavorare anche in maniera diversa, come sono stati? No, ringrazio di Dio noi abbiamo continuato a lavorare anche in teatro, anche grazie a una giusta politica fatta da tutti gli stabili pubblici che hanno continuato a dare lavoro in prospettiva ovviamente. Io ho cominciato a provare in teatro già a gennaio a Milano e poi ho cominciato questo con loro. Facciamo un po' di piazzisti, invitiamo tutti a venirlo a vedere questo spettacolo. Certo, vi aspettiamo il 20 e il 21 all'Aquila con pandemia.